Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana in A1 in direzione Bologna, segnaliamo che l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di benzina e quella di Montepulciano Est è sprovvista di GPL. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla regionale due cassi a restringimento di carreggiata nei comuni di Barberino e San Casciano-Valdipesa all'altezza del chilometro 270. La viabilità cittadina a Firenze in via di Novoli per lavori alla pista ciclabile, restringimenti di carreggiata a tratti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!